Filippo Romagna, benvenuto al Novara Calcio, quali sono le tue prime impressioni? Innanzitutto grazie mille, sono buonissime impressioni, un bello stadio, un gran bel spogliatoio come gruppo, quindi sono molto contento della mia scelta. Questa è la tua prima esperienza nel calcio dei grandi, anche se ti abbiamo visto durante gli allenamenti con gente che qualcosa ti ha potuto insegnare come Bonucci, Chiellini, Barzagli. Sì, comunque con loro impari tantissimo, però ho scelto io di andare via per fare nuove esperienze, per venire in uno spogliatoio diverso e sono contento di questa scelta. Sei un difensore centrale, puoi giocare anche a destra, un difensore duttile, ma quali sono le tue caratteristiche principali? Sì, sono difensore centrale, in passato ho fatto il centrocampista, mi piace impostare l'azione da dietro e mi piace l'uno contro uno perché mi reputo da un difensore abbastanza intelligente e quindi mi piace bene prevederla a giocate. Qualcuno ci ha segnalato che è anche un buon tiro da fuori perché contro il Novara-Novarello nei campionati giovanili hai fatto anche un gran gol. Sì, è vero, anni fa la mia prima partita con i più grandi, mi ricordo. Vieni dalla tua seconda esperienza con l'Under 21 in convocazione, sei capitano dell'Under 19, l'esperienza con la nazionale come la stai vivendo? No, quello è un grandissimo onore sicuramente, vestire la maglia azzurra è bellissimo ogni volta, è una bella responsabilità ma hai tanta tanta motivazione e come ripeto è un grande onore soprattutto ad essere in Under 21 in cui ci sono veramente giocatori veri. Che aspettativa hai per questa stagione, tu che sei un giovane a detta dei più esperti di grande prospettiva? Voglio sicuramente crescere, voglio mettermi a disposizione di questo gruppo e seguire gli obiettivi con questa squadra.